Questa è la mia camera, il ginocchio dentro guarda com'è carina good with a window all is orange spero che la pensiamo a te vai this is the grand bathroom coming wow guarda com'è grosso è più grosso delle foto che abbiamo trovato su internet e il mio canale ha ha ha